Senti anche tu questo rumore? Ecco, lo senti? No, sei tu! Mamma, ti ho preparato il caffè. A dopo! Ciao mamma! Ma no, frate, da stamattina mi hanno scassato cazzo questa storia del picciono. Della colomba. Ha risuscitato la colomba. Senti! Saremo sempre con te! Vi dovete pagare l'affitto. Trova i soldi, se no v'è una caccia. Mamma! Oh! Mamma! Mamma! Tutti uguali e gli hai esposto! Vieni, vieni! Vieni! Che succede? La gente vuole stare con Anna Luce. Dicono che è una santa. E' una santa piccola. Ma che era facile? Anna Luce prega tutto il giorno con la gente. Una madre va in giro a frile e caffè. Ma quando fai io? C'ho una strana sensazione, Mario. Non mi sento più quella da in cuore. Mi sento vuoto. Non lo so. Forse Anna Luce ha davvero qualcosa di speciale. Pure il miracolo dei soldi da fatta, viste? Non ti permettere. Tua sorella è santa e miracolosa. La gente ha bisogno di lei.